Ai giovani europei non manca certo lo spirito d'iniziativa. Spesso però, quando si tratta di avviare una piccola o media impresa, mancano l'esperienza pratica e le competenze manageriali. Il programma europeo Erasmus per giovani imprenditori offre ai giovani o futuri imprenditori la possibilità di lavorare da 1 a 6 mesi a fianco di imprenditori già affermati in un altro paese dell'Unione Europea. ... La mia vita è iniziata a fare la Università di Varna economica e poi specializzarono in magistratura corporativi finanzii. All'inizio del 2010 Ivan ha scelto di trascorrere sei mesi presso la Cignozza, un'azienda viticola in Toscana. Dopo aver lavorato come bancario ha deciso di cambiare vita, trasformando i vigneti di famiglia in una vera e propria impresa e ampliando l'attività alla degustazione di vini e alla ristorazione. Roberto Del Buono è il proprietario della Cignozza dove dal 2000 coltiva 12 ettari di vigneti. Ha colto il giovane esordiente senza alcuna esitazione. Perché effettivamente ho visto subito le potenzialità di uno scambio di questo genere. avere la possibilità di conoscere persone che vogliono imparare questo lavoro, che vogliono investire in questo lavoro e persone di altre nazionalità, quindi capire altre mentalità, capire altri modi di vedere il lavoro, di pensare il lavoro. Questo per me è un arricchimento incredibile per quanto riguarda appunto il mio lavoro e la mia azienda. Io mi occupo nel friazzamento, ho studiato a lavorare in office, ho chiamato a pomogare Roberto a trovare nuovi pazzari e ho ricordato a preparare il vino. ma non si tratta di nessuno. Con Ivan stiamo collaborando, stiamo facendo nuovi progetti, stiamo vedendo nuove tecniche di marketing e di mercato. Più che altro gli sto insegnando il lavoro e nonostante io lo insegno a lui, anche lui fa delle osservazioni che servono anche a me per migliorarmi. In office sono molto utile, perché ho parlato qualche altra lingua e mi è piaciuto trovare un paese in altri paesi, in Europa e in Europa. Quindi facciamo delle strategie, studiamo insieme delle strategie e con il suo grande aiuto posso individuare i paesi dove la vendita di vino potrebbe essere migliore o peggiore. quindi facciamo subito una certa selezione di paesi con più o meno possibilità. Ivan in questo frangente mi sta dando veramente un grosso aiuto. Al suo ritorno in Bulgaria, Ivan progetta di acquistare nuovi terreni da coltivare a vigneto. Le conoscenze acquisite presso la Cignoza dovrebbero consentirli di esportare più facilmente la sua produzione all'estero. Io credo che questa esperienza con Ivan continuere. perché il rapporto che si crea in un lungo periodo è un rapporto comunque solido, è un rapporto di fiducia, è un rapporto di amicizia e quindi io credo che continuerà sicuramente. è un rapporto di amicizia e un rapporto di amicizia una casa di produzione cinematografica che si chiamerà Alarm Films. Tobias Jansson è invece il direttore di Stori, una società di Stoccolma che produce film e documentari. è un rapporto di amicizia di amicizia e che si arricchisce. È un rapporto di amicizia che non è sicuro per il documentario è un rapporto di amicizia che si può aiutare a fare un rapporto di amicizia. Durante i quattro mesi trascorsi a Stoccolma Irma ha potuto farsi un'esperienza di tutte le fasi di realizzazione di un documentario, dalla preparazione di una produzione fino alla sua distribuzione passando per tutte le fasi di montaggio. Inoltre la sua conoscenza della cultura e della lingua lituana è stata preziosa per Stori durante i sopralluoghi per un documentario sui lavoratori del suo paese in Svezia. Al suo ritorno a Vilnius Irma ha in progetto di creare una sua società di produzione e di far conoscere meglio il cinema lituano all'estero. Kaip jaunai verslininkai sakyčiau, che è molto importante la comunicazione allora bisogna prendere il rischio e prendere il rischio e prendere il rischio e avere un'evoluzione per poterare per poterare le fondamentali a compagnie. Io credo che continui a lavorare con il primo per l'Italia e l'evoluzione e l'evoluzione e il viaggio un'evoluzione europea Io amo questa è una programma in Lietuva nessun modo di riflessi saperne su questo e la l'evoluzione per tutti i miei veicoli. Sono Sara Lensi, vivo a Bologna, sono laureata in filosofia, della scienza ed ho studiato sassofono, pianoforte, musica elettronica al conservatorio. Ho lavorato nel campo dell'arte, in particolare delle installazioni sonore, per circa dieci anni e due anni fa ho fondato l'agenzia di design sonoro Lorelai, che è una giovane impresa nata grazie ad un finanziamento della provincia di Bologna. Un'architettura gonfiabile che diventerà una cattedrale effimera. È un luminarium, una delle numerose creazioni di Architect of Air, un'impresa fondata nel 1992 a Nottingham, nel Regno Unito, da Alan Parkinson. Installato temporaneamente a Jex in Francia, questo luminarium diventerà per alcuni mesi un nuovo luogo di sperimentazione per Alan e Sara. L'initiativa veniva dalla Sara Lenzi, sapendo che sia una cosa rischia, allora è meglio che non ci costruirà nessuno. Alan Parkinson è sia artista che imprenditore. In questo senso, Sara li assomiglia, dimostrando la stessa volontà di colmare la distanza che spesso separa la creazione artistica dallo spirito imprenditoriale. Per me è stata una scelta molto importante perché nel mondo dell'arte si fa molta ricerca, io personalmente ho fatto molta ricerca, ma questa ricerca di solito resta chiusa nei confini dell'arte. Si rivolge ad un pubblico che è sempre meno, frequenta sempre meno le sale da concerto e io credevo invece che questa ricerca sul suono avesse molto da dire alle imprese, che potesse generare ricchezza. Quel giorno Sara può sperimentare per la prima volta nel Luminarium gli elementi sonori assemblati in precedenza nel suo studio di Bologna. Alan ha le idee molto chiare. Proprio per questo c'è stato bisogno di comunicare molto e di lavorare molto insieme. Questa è stata la cosa più importante. Mi hanno indirizzata molto nel lavoro. Per partecipare a questo scambio, Sara ha contattato una delle numerose organizzazioni incaricate di diffondere il programma Erasmus in Europa. Sono stata molto aiutata dall'ufficio italiano, per cui non ho avuto nessuna difficoltà burocratica, amministrativa, logistica. È molto semplice e questo è importante perché un giovane imprenditore così come un imprenditore esperto ha poco tempo, solitamente. Quindi la semplicità del programma è molto importante. Io lo consiglierei a tutti. La partecipazione a questo programma di scambi Erasmus per giovani imprenditori è una carta vincente per tutti. Per voi, imprenditori già affermati, è un'occasione per beneficiare del dinamismo e della creatività di giovani imprenditori di altri paesi europei. Sceglieteli in funzione delle vostre esigenze. Dipende solo da voi lanciarvi in questa esperienza. Grazie. 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 Grazie.